territorio tradizione buon gusto oggi parliamo di buon gusto dove a pregazzona ristorante del sole con giovanni e devi che prepareranno un piatto speciale per voi i nostri chef eccoli qui giovanni e david buongiorno ciao ciao bene cosa preparerete per noi oggi prepareremo degli spaghetti allo scoglio quali sono gli ingredienti allora gli ingredienti principali sono proprio i frutti di mare con scampi gamberi vongole cozze e polpo e insaporiti con dei pomodorini paghino io vedo una pasta particolare guardate un po se noi usiamo per il nostro ristorante solo pasta reidratata si ottiene facendo mettendo in acqua della pasta di ottima qualità per tre ore e se la si riporta allo stato prima dell'essiccatura come spezie noi utilizziamo del peperoncino del buon pepe un olio aromatizzato all'aglio del sale e del buon prezzemolo ma che vedo anziché il vino l'acqua sì noi utilizziamo acqua marina sterilizzata per sfumare i frutti di mare per dargli quel sapore originale e caratteristico il pesce arriva tutto pesco tutte le mattine dal lunedì al sabato prima tutte le spezie olio d'oliva aglio e prezzemolo peperoncino e pepe nero facciamo soffriggere dorare l'aglio dopodiché mettiamo i frutti di mare cozze e vongole dopo di quando cozze e vongole sono aperte li togliamo via facciamo cucinare insieme al sughetto delle cozze e le vongole i pomodorini i gamberi gli scampi e il polivo nel frattempo mettiamo questi famosi spaghetti reidratati tre minuti in acqua calda in acqua bollente e li facciamo risottare insieme al sughetto ecco l'impiattamento queste arte pura è ci piace eseguirlo in maniera diciamo non diciamo non perfettissima perché nessuno è perfetto ma cerchiamo di fare del nostro meglio territorio tradizione buongusto finisce qui un saluto da joan da david e un caro saluto anche a maurizio e mauro i titolari del ristorante del sole che si chiamo